Un bello strumento di cui vi voglio parlare oggi, che può essere molto utile per far crescere la vostra pagina Facebook, per coinvolgere tutti i vostri fan, è easypromosapp.com. È un sito internet ed è un'app che potete installare sulla vostra pagina Facebook, che vi permette di creare questionari, sondaggi, concorsi. Ed è molto utile, molto potente questo strumento, perché vi permette appunto di creare questi questionari, questi sondaggi. Per esempio, potreste chiedere ai vostri fan quale vostra canzone preferiscono di più e farli votare. Caricate magari le dieci canzoni del vostro album e chiedete ai vostri fan di votare. L'app, prima di far votare le persone, fa mettere il mi piace alla vostra pagina, fa mettere il mi piace alla pagina che ospita il questionario. Ed è uno strumento molto potente. Potete così ricondividere sulle vostre pagine, anche sui vostri profili personali, il sondaggio e cercare di coinvolgere più persone possibile. Ma non fa solo questo. Trattiene anche tutte le mail di chi partecipa. E avere le mail di chi ha votato, vuol dire avere un contatto che rimane delle persone che vi seguono. E quindi tutte le mail che raccogliete poi potreste fare una newsletter con le novità del vostro progetto, della vostra band. Quando esce un disco nuovo potreste mandare i link per l'acquisto e per lo streaming. È uno strumento veramente potente che vi consiglio di usare, di diciamo sbizzarrirvi nella fantasia. Potreste far votare, che ne so, la vostra canzone preferita e poi dire che tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati tre che poi vinceranno il vostro disco o la vostra maglietta. Cioè sbizzarritevi con la fantasia, coinvolgete il vostro pubblico, fate crescere i like alla vostra pagina e mantenete i contatti di chi vi segue.